Le parabole della misericordia. Così Gesù risponde alla mormorazione di scribi e farisei che restano scandalizzati perché lui accoglie i peccatori pubblicani, la misericordia di Dio. Non è uno slogan o una bella parola. È veramente l'andare incontro a tutti senza escludere nessuno. Gesù, più che spiegarlo, racconta delle parabole stupende. Come non ricordare quella della pecorella smarrita e del pastore che va a cercarla avendo lasciato le altre 99 e poi la gioia quando la ritrova, se la mette sulle spalle, condivide con gli amici la festa. Come non ricordare l'altra piccola parabola della donna che perde una moneta delle sue dieci monete e la cerca affannata finché non la trova e poi fa festa con le sue amiche. Così è, dice il Signore, in cielo. Dio fa festa per un solo peccatore che si converte e torna a lui. Ma poi c'è la stupenda parabola che non finiremo mai di ascoltare, di commentare, di custodire. Ci commuove. La parabola cosiddetta del figlio al prodigo, del padre con i due figli. Questi due figli che ci interrogano, ci provocano, ci stimolano. Il primo, il più piccolo, che va via con tutta la parte di eredità che gli spetta, che lascia il fratello, la casa, il padre, che sperpera il danaro, che si ricorda del padre solo quando è diventato nulla, peggio di una bestia, non può nemmeno mangiare del cibo, dei maiali, animali impuri per gli ebrei. Si ricorda del padre, decide di tornare non più come figlio, ma come garzone, almeno mangerà. È la grande scoperta di un padre. Non buono perché chiude un occhio o non si è accorto dell'errore grave. Buono perché ama. Buono al punto da aspettare, da commuoversi. È suo figlio. Gli corre incontro, gli fa festa, non ascolta nemmeno la sua confessione. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non è così. Non glielo fa dire, lo fa rivestire delle vesti che caratterizzano la sua dignità, gliela restituisce e fa festa. Un Dio che fa festa per il peccatore che torna, il fratello minore. E c'è l'altro fratello che fa fatica a entrare, ma anche per lui il padre ha tempo e disponibilità del cuore, perché si riconcili, perché tuo fratello, lui non lo chiama così, tuo fratello era morto ed è tornato in vita. La misericordia di Dio non solo ci perdona, ma chiede ai fratelli, alle persone, di ritrovarsi uniti, di fare festa nell'amore, nella gioia, di annunciare così l'amore grande di Dio per tutti i suoi figli.